La nostra posizione è sempre stata chiara dall'inizio, da quando abbiamo portato in consiglio monotematico la nostra mozione che appunto parlava del biodigestore e in merito noi dicevamo che comunque sia il biodigestore, eravamo favorevoli sia al biodigestore, ma comunque ponevamo dei paletti molto importanti a prescindere proprio dal fatto che in mancanza di un piano d'ambito eravamo preoccupati proprio per la tutela dei cittadini, quindi abbiamo posto questi paletti che sono il sovradimensionamento perché è importante capire che il biodigestore deve essere, se si farà, deve essere fatto secondo il fabbisogno del territorio. Avevamo posto quella volta 45.000 tonnellate che era in riferimento ai valori stimati, era del 2015 se non mi sbaglio, quindi per noi è importante puntare sul sottodimensionamento, quindi sui 45.000 tonnellate, proprio perché abbiamo la tutela ai cittadini che siccome c'è nell'aria questa possibilità che si portano dei rifiuti da fuori regione o fuori provincia, quindi lasciandolo sottodimensionato questo rischio viene a meno. Poi avevamo messo molti altri paletti che era riferito all'occupazione del suolo, quindi si doveva cercare per mezzo dell'amministrazione di trovare diciamo la possibilità di trovare più che altro non occupare nuovo suolo, quindi non più cementificazione, era un punto importante di questo, quindi se c'è questa possibilità nella zona Vallefoglia ben venga. Poi ci sono altri molti punti che sono comunque sia la possibilità che questo crea dei vantaggi comunque sia al comune di Vallefoglia e alla nostra vallata, comunque sia praticamente porta dei vantaggi nel recepimento di 350.000 euro se non mi sbaglio di diritti di urbanizzazione, e quindi questi potrebbero essere investiti nel ridimensionare tutto il problema che c'è nella vallata di Talacchio, che è quella della zona industriale che è in degrado, in forte degrado. Quindi il problema dell'Eternet secondo noi è un forte problema che deve essere attraverso questi incentivi che sicuramente arriveranno dal biodigestore indirizzati verso questo settore. Poi un altro punto importante da tenere in considerazione è che il fatto che per la tutela dei cittadini ci sia all'interno del consiglio di amministrazione della nuova società che è la Green Factory, un membro del posto, quindi dell'amministrazione, o se o no scelto in comune accordo con le forze politiche di Vallefoglia e questo è proprio a tutela dei cittadini. Poi abbiamo messo altri paletti che sono quelli dei controlli, controlli anche senza nessuna indicazione, quindi controlli mirati sul funzionamento del biodigestore. E poi noi abbiamo messo un altro punto importante che era quello che praticamente sui social viene reclamato, che è la mancanza dell'informazione. Quindi è importante che i cittadini sappiano innanzitutto che cos'è un biodigestore, perché molti non sanno neanche che cos'è un biodigestore. Quindi l'importanza dell'informazione deve essere mirata, deve essere totalitaria. Quindi è importante l'informazione, sì, ma ci deve essere anche partecipazione nella possibilità di creare questo nuovo impianto. Quindi è importante che venga fatta un'assemblea pubblica. Noi l'abbiamo detto più volte anche a livello giornalistico e poi scritto nella mozione che è importante fare un'assemblea pubblica. Purtroppo in queste circostanze di pandemia, in questo momento, è difficile creare un'assemblea pubblica. E questo purtroppo ne risente la popolazione e vengono poi create, diciamo, delle, come posso dire, false notizie. E questo crea, secondo me, io dico, adesso è un po' forte la parola, un po' di terrorismo psicologico nelle persone. È un po' forte, capisco, però è importante che questo non avvenga.